Oh, dai, oh! Riprendiamo il nostro tappetino. Ora, prendiamo i nostri 5 kg. Che dite? No, perché non li usiamo mai. Una volta che li usiamo, li sfruttiamo. Facciamo una cosa bellissima. Salgo, porto il gomito, torno giù. Lavoro al fianco. Lavoro al gluteo. Lavoro a tutto. Quanti? Vediamo. Almeno 16, almeno. È il minimo sindacale, 16. Stefania, si può fare di meno? No. Eh. Eh. Va. 1, qui, scendo. 2, qui, e scendo. 3, qui, e scendo. 4, lì, e scendo. 5, lì, e scendo. 6, porto. 7, attenzione. 8, porto. E cambiamo gamba solo per... Perché è pesante, può dar fastidio. Non perché ve ne faccio far di meno, eh. Vado. 1, qui, giù. 2, qui, e giù. 3, gomito. 4, gomito. 5, gomito. 6, gomito. 7, gomito. 8, gomito. E giù. Si cambia gambetta. Sentite gli addominali? 8, gomito. Lì, giù. 2, gomito. E lì. 3, gomito. 4, gomito. 5, gomito. 6, gomito. 7, gomito. 8, gomito. Cambio. Salgo. Salgo. 1, qui, giù. 2, lì. 3, lì. 4, lì. 5, lì. 6, lì. 6, lì. 6, lì. 6, lì. 7, qui. 8, e lì. Ora vi faccio una proposta. avendo qui altri pesetti, tipo quelli da 2, sostituiamo il peso da 5 con quello da 2, facciamone ancora 18, 16, ancora 16, non 18. No, perché con un esercizio facciamo due cose, glutei e addominali. Non siete felici? 8, con questa è una passeggiata, 2, 3, 4, sembra di non farli, 5, 6, 7, 8, ancora 8, si scappa il peso, 7, 6. Settiamo il peso, 5, 4, 3, 2, e 1. Stop! Vi tremano i glutei? O tremano solo me? 1, 2, qui. Domani magari, 3, 4, mi pensate, 5, 6, 7, 8, ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 2, e 1. Stop! Allungo! D'accordo! Ed ora, visto che abbiamo sempre questo bel pesetto, che non ce l'abbiamo mai, spruzziamolo per, che cosa? Per i femorali. Già che facciamo glutei, facciamo i femorali che così li alzano su. E, dico, sì. Cosa facciamo? Semplicemente, ponte, ma teniamo staccate le punte dei piedi, quindi salgo, scendo, salgo, scendo. 8, qui, 2, lì, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora. 8, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e 1. D'accordo, ora, ci sediamo, stacchiamo un piedino, da terra, tenendo, aspetta, ve lo faccio così, tenendo sempre il tallone appoggiato a terra, l'altra gamba staccata, da qui salgo, scendo. 8, giù, 2, giù, 3, giù, 4, giù, sentite il femorale, 6, giù, 6, giù, 8, cambio, qui, vado, o, è da crampo, sì, 2, 3, 4, 5, 6, 8, e cambio, ancora 8 più 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop, streccio un salto. Ma già che abbiamo il nostro pesetto, questo pesante, secondo me possiamo fare una cosa divertentissima. Dondolo sulle schiena, qui, non ce l'abbiamo mai, questo pesetto. pesetto, sì, mi tiro su, scendo, qui, anche senza tirarvi su, qui, e siamo quanti? due, tre, 4, 5, non per tutti i filosofi è tutto relativo, 6, 6, 7, 8, ancora 8, 7, 6, dove va la Tatiana, 5, 4, 3, 2, 1, rimango su, ora, solo questo, scendo, e salvo, 1, qui, 2, su, 3, 2, 3, 4, 5, 5, già che abbiamo i pesetti pesanti, 6, 7, 7, non mi alzo con la schiena, ecco le gambe, 8, ancora, 8, 7, come va? 6, 5, 4, 3, 2, 1, qui, 1, qui, 1, qui, 1, qui, 2, 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 1, qui, 1, qui, 2, 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 1, qui, 1, qui, 2, 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 2, 1, qui, 2, 2, 1, qui, 2, 1, qui, 2, 1 ci mettiamo a terra qui cosa facciamo? cioè diminuiamo che dite? diminuiamo da qui bicipiti su 1 2 3 4 5 6 7 8 ancora 8 7 6 5 4 3 2 e 1 prendo il piccolo e vado col fly 1 2 stesso braccio 3 4 5 6 6 7 8 ancora 8 7 6 5 4 3 2 riprendo il 2 e vado con il tricipite 1 2 3 3 4 5 6 7 8 ancora 8 7 6 5 4 3 2 e 1 cambio qui qui va 1 2 3 4 5 6 6 8 ancora 8 7 6 5 4 3 2 2 e piccolo fly 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 7 6 6 5 4 3 2 e 1 cambio vado con i tricipiti 8 2 3 4 5 6 6 6 8 8 8 7 6 5 4 3 2 e 1 stop come va? tutto bene? 6 6 9 9 10 12 14 15